Questa è una serra dove avviene la produzione in acqua aponica. Come vedete però non ci sono piante. Che significa? In realtà l'acqua aponica è un sistema integrato che è fatto dalla produzione di viticoltura, quindi di pesce, e una produzione di piante. All'interno di questa serra noi abbiamo la produzione del pesce, in questo caso qua alleviamo il pesce persico. L'acqua aponica è importante perché grazie a un'idea di economia circolare ci permette di utilizzare le acque del nostro allevamento, di prenderle, stoccarle e inviarle direttamente alle piante. Perché? Perché il pesce, oltre a regalarci una carne di ottima qualità, ci regala un'acqua piena di fertilizzante naturale. Questa è la serra dove andiamo a fare la produzione ortofrutticola. L'acqua aponica appunto è strutturata in acquacultura e idroponica. All'interno di questa serra andiamo a utilizzare le piante come depuratori dell'acqua dei pesci, ovvero loro vanno ad assorbire tutti i nutrienti che i pesci ci hanno regalato affinché l'acqua possa essere più pulita, più leggera e possa ritornare così nuovamente ai pesci. Grazie. 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 Grazie.